Io non voto più il movimento, la smettete di fare queste cose? La smettete di dire queste parole in Parlamento? Quel posto lì va ripensato e ricambiato, ripensato, ripensato con l'introduzione delle nostre politiche, che sono politiche di referendum propositivi senza quorum, di bilanci partecipati, bisogna andare lì dentro e mandare via quella gente, con le buone, possibilmente con le buone, perché noi non siamo né violenti né niente, nella nostra violenza è venire qua e fare una manifestazione e magari ci fate passare anche come Goliardi o come Scemi, sono tutti ragazzi che sono preparatissimi in tutte le commissioni, fanno le leggi e poi ci dentro c'è l'inghippo, sempre così, noi una legge per togliere i vitalizi come l'ha fatto il PD, non la voteremo mai perché c'è l'inghippo dentro, c'è l'inghippo di nuovo, la gente lo deve sapere cosa sta succedendo lì dentro, che mettono dentro una cosa e l'opposo dell'altra, vedrai noi non voteremo la legge e voi titolerete i tre giornali, ecco Grillo contro i vitalizi, a favore dell'abolizione dei vitalizi, ecco cosa succederà.